Per esempio chiederei a Gesuno Moledda dei Rossomori se vuole farci un saluto e qualche considerazione e così cominciamo il nostro giro di saluti. Grazie. La responsabilità di essere non soltanto movimento, di essere occasione di incontro ma responsabilità di proporre una soluzione politica ai problemi che oggi attraversa la Sardegna guardando al futuro. La presenza di oggi, quando ci si incontra in queste occasioni, ci consente di dire che c'è in Sardegna non soltanto bisogno di forza politica, ma che c'è bisogno, visto dal punto di vista dell'indipendenza e della sovranità della Sardegna, che le forze politiche che hanno storia, che hanno cultura, che hanno radici, che hanno senso, come è stato detto nell'introduzione, iniziano a ragionare perché questa politica, la forza politica di questi movimenti, di queste aspirazioni diventi forza politica capace di diventare governo della Sardegna. Noi riteniamo, rossomori, che la sfida sia questa. Da questo punto di vista noi ci poniamo oggi, poniamo a tutti quanti noi messi insieme, l'oggetto di una discussione. Possiamo trovare un modo, gli incontri, i rapporti, possiamo trovare un modo in cui mettiamo a calendario tutte le nostre idee, tutte. e abbiamo la forza e il coraggio di scoprire che poi alla fin fine, con tutte le cose che ci diciamo fra noi qualche volta anche eccedendo, siamo al 90%, qualche volta molto di più, d'accordo. D'accordo. E che probabilmente le differenze sulle quali andiamo a discettare qualche volta e qualche volta e perfino a ignorarcele, perché quando manca il confronto ignoriamo pure queste differenze oltre che il consenso, ma perché non è possibile avviare un percorso, questa è secondo me, e secondo Rossomori la sfida dell'oggi, avviare un percorso di ricongiunzione, facendo uno sforzo come è stato fatto stamattina, io l'ho letto velocemente il documento politico, nel documento politico e nell'introduzione, facendo uno sforzo per mandare un messaggio che dica la Sardegna nel mondo, come si definisce nel mondo, e che rapporti instaura nel mondo, e com'è che si fa riconoscere nel mondo, e come una battaglia noi conduciamo in questo momento in prospettiva, per arrivare a una definizione di rapporti nel mondo con gli altri popoli del mondo, un progetto di democrazia di Sardegna che noi offriamo nel mondo, con tutta la crisi che c'è, con tutte le novità che ci sono, non è l'autoreferenza che fa l'indipendenza, l'indipendenza fa l'essere forza tale da farsi riconoscere, l'ho detto al nostro congresso di Nuoro, lo dico qui, la mia più grande commozione in questi ultimi anni è stata la proclamazione dello Stato indipendente di Palestina dopo le centinaia e le migliaia e decine di migliaia di morti di quel popolo, riconosciuto dagli Stati nelle Nazioni Unite ed è una guerra che è durata ad affermare il diritto di quel popolo e dei popoli. Noi abbiamo fatto, per fortuna nostra, un'altra scelta e non siamo nella condizione di chi riceve i bombardamenti quotidiani fisici, bombardamenti quotidiani. E' possibile che intraprendiamo un ragionamento che dica la politica di sovranità, la politica di indipendenza con l'annessa politica sociale, sono d'accordo, noi siamo gli operai, noi siamo i pastori, noi siamo i contadini, noi siamo i precari, noi siamo il popolo, ma nel popolo non è che non ci sono D'Ul Furone e De Manzano. La seconda questione finisco. Occorre mettere energie per elaborare un progetto un progetto di governo che anche quando non si è forza di governo perché non hai la materialità dei numeri, un progetto di governo intorno al quale nella costruzione di questo progetto e nell'attuazione cresca un nuovo ceto dirigente. Noi siamo convinti di questo, Rosso Mori. Il nostro slogan attuale potrebbe essere nuovo progetto di sviluppo, nuovo ceto dirigente. E il nuovo ceto dirigente non si può realizzare con le cooptazioni o con l'innesto. Si realizza diversamente nell'elaborare il progetto alternativo a quello che è stato il modello di sviluppo oggi fallito. Un nuovo modello di sviluppo è un nuovo ceto dirigente. Chi elabora il nuovo modello di sviluppo è ceto dirigente. Non c'è una separatezza. La separatezza sta nel fallimento. Quel modello di sviluppo che è fallito, io una volta dicevo per carenza di sardismo per intenderci, è fallito per carenza di sovranità, è fallito perché è imposto dall'esterno, ma è fallito perché il ceto dirigente di Sardegna non si è conformato ai bisogni della gente, si è conformato a un altro modello culturale, politico, sociale. Questa è la questione. e c'è una sfida che la politica, questa politica, deve lanciare, io sono felice di vedere tanti giovani, deve lanciare a quella intellettualità talvolta neguitosa, talvolta disimpegnata, talvolta pensante a cachet, e io una volta l'ho scritto, lo dico, noi dobbiamo costruire contemporaneamente, insieme, un modello di sviluppo, un nuovo ceto dirigente, quindi una nuova intellettualità, e quindi prendere in mano la scuola. Il mio primo punto da Presidente di Repubblica di Sardegna sarebbe mi prendo dieci premi Nobel e me li porto all'Università di Sardegna e mi porto tutti gli investimenti necessari per aprire questa scuola a un futuro diverso e formare ceto dirigente, ripeto ancora, credo che ci siano le condizioni con uno sforzo di tutti. Non sto proponendo il partito unico degli indipendentisti e dei sovranisti, sto proponendo un progetto che abbia gambe, che abbia un futuro e che si dia un esito finale, perché se siamo d'accordo sull'esito finale le differenze si possono non soltanto smussare, ma si possono annullare e forse non ci sono neppure. in questo senso credo che l'augurio di buon lavoro per voi sia anche un augurio di buoni risultati per noi. Grazie.